Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È appena arrivata la triste notizia. Un noto giocatore di calcio italiano si è tolto la vita. Amici, tifosi e familiari sono tutti rimasti sconvolti. Nessuno, infatti, se l'aspettava. Aveva chiesto un lavoro, si trovava in difficoltà economiche. Ma nessuno gli ha teso una mano. Per questo motivo, attraversava una fase delicata della sua esistenza, e lo sconforto lo ha colto inducendolo a dare fine alla propria esistenza. Si sentiva inutile, così ha preso una pistola che deteneva in casa e si è tolto la vita. Aveva giocato nel Cagliari, e con la sua nazionale, aveva emozionato e suggestionato nell'epica partita dell'Uruguay contro l'Italia, ricordata per risvolti non sempre piacevoli. Ecco di chi stiamo parlando. L'ex attaccante vantava 15 gol in 33 gettoni in nazionale con l'Uruguay, tra le partite più celebri quella contro l'Italia nel mondialito del 1980. Dopo la sua partecipazione nel Cagliari, tornò in Sud America dove chiuse la sua carriera. È morto il 29 agosto, Valdemar Victorino. La società ha pubblicato una nota di cordoglio. Il Cagliari in un comunicato ha ricordato Valdemar Victorino, talento puro del calcio uruguayano. Giocò in rosso-blu una sola stagione, quella 82-83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l'affetto di tutti i tifosi. Addio, Valdemar.